Sono assolutamente certo che mi pentirò di averti fatto conoscere questa app. Se mi chiedessi esattamente a che cosa serve il software che ho scelto come argomento del video di oggi, l'unica risposta sensata che potrei darti è tutto. Andiamo ad aprire il nostro browser, digitiamo gentiluomo digitale e facciamo riferimento al primo risultato. Ci porteremo su Downloads. Scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare Warp Terminal. Una volta che sarà stato scaricato ci comparirà qui un clic su questa iconcina, un bel doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato, ancora doppio clic su warp setup.exe, la consentiamo con Esegui install for me only, clicchiamo su Next, ancora su Next, Install, Finish, puoi considerare Warp come una via di mezzo tra un prompt dei comandi e un'intelligenza artificiale. Andiamo quindi ad aprire Warp, ma attenzione, al momento Warp parla solo inglese. Andiamo a chiedere al nostro Warp se sa quanto spazio libero c'è sul nostro PC. Andiamo l'invio, vediamo che inizia a pensarci su, ci verrà richiesto da Warp se può lanciare autonomamente dei comandi PowerShell. Ma attenzione, si tratta solo di comandi in sola lettura. Ogni volta che invece vorrà apportare qualche modifica ci chiederà comunque l'autorizzazione. Quindi cliccando qui su Enter e lasciando spuntata questa voce che consente l'esecuzione automatica dei comandi di sola lettura ed ecco la sua risposta. Ha rilevato un Drive C come disco principale, delle dimensioni complessive di quasi 80 GB ed uno spazio libero di 51,41 GB. Mentre sul Drive D, uno spazio di circa 60 MB, ci sono liberi 0 GB. Non solo ha risposto a tutto quello che gli abbiamo chiesto, ma ci ha dato anche delle informazioni in più. Ma cosa succede nel momento in cui noi decidiamo di apportare qualche modifica? Install Opera Browser on my PC. Installa il browser Opera sul mio computer. Premo invio e aspetto la sua risposta. Ogni volta che lui sta per apportare qualche modifica al nostro dispositivo, ci chiede di autorizzare. Cliccando Enter parte una procedura assolutamente automatica che che installerà il browser Opera sul nostro PC. L'installazione è praticamente terminata e si apre la finestra principale del browser Opera. Alla prossima!